Detto questo, ho parlato di azione e di azione per andare a quello di un'altra parte. Abbiamo parlato di un'altra parte, di un'altra parte, di un'altra parte. Questo è l'azione, ora veniamo a andare. La pressione del nostro cuore ha detto che era fungente. Quindi posiziamo con la parte del cuore di segnale. Sta il racionale. Pucca, dovrebbe in un momento in una pressione diversa. Puoi tirare. Deve poter tirare o non puoi successful. Ora, pucca, e si vuole dominar la mano derecha di Manuel, vale? In questo caso posso sempre fare il cuore, cioè lo fare questo. In questo caso, saca la manca e cambia. Aprovecha che Luque le sta tirando per andare in questa direzione. Meglio ancora, guardia vostra persona. Meglio ancora, lo riesce ancora meglio quando stessa guardia, anche se non c'è passione, stacca meglio. O magari stacca più, un motivo fornato. Per venire a timidere, per fare un lavoro, magari, come faccia vedere che mi capiva. E' quando un quale si sta qui. Forse sta qui. Rattorno avversario alla stessa linea. Stacca la presa in frutta. Per chiudermi. E' il lavoro. E' il lavoro. E' il lavoro. Perfetto. 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 Comienza la p servantica. Questa è la teoria, la pratica, come vediamo noi, bisogna avere nostra favorezza, fare due catalogmani diversi è come fare monote in civata, completamente diversi. La teoria, la pratica, sapete che cosa ho detto? E' la teoria, l'ospedale è una differenza, è la teoria, è la teoria, è la teoria. La maggior parte degli errori nel katakuruma vengono fatti perché ci si cerca di adattare un katakuruma a tante situazioni, invece non può essere così, per essere efficace per ogni diversa situazione c'è un katakuruma diverso. Diferente lato e l'altro è il punto e l'altro è il punto e l'altro è il punto. Questa è completamente la seconda testa. Perchè, come ad esempio, nel taglio dorsi possono trovare il vuoto davanti a lui. Non è quello che vediamo adesso, vi facciamo vedere nelle prossime lezioni. In questo katakuruma invece stessa varia. Quello che faccio io non è andare a far trovare il vuoto a lui, ma a secondare la sua pressione o il suo movimento, senza andare a strafare. Un errore molto comune è che si cerca di andare su quella gamba lontana così. Non ho bisogno di andare in attenzione. E' un errore molto comune. E' un errore perchè è difficile arrivarsi, arrivarci. E' difficile arrivare e fare delle cose. E anche se ci arrivo... Se io arrivo qua... ...il penso del mio che... ...e tutto dopo me. Per me è più facile. Esatto. E gli raccomanditi in puntata, se c'è la sua scuola, se le puoi incriminare con la trance. Ma le puoi marcarne anche se ci sono. Il movimento quindi deve essere chiuso. Molto chiuso. E trope dei. E questo è la cammino. Come le ruote. Trope dei piedi. Deve essere come un tre, come un uno. Rompere la satunzione di questa varietta. Il secondo intratto errore viene fatto lungilmente. Oltre a quello di cercare la gamba lontana. è quello di uscire con la spalla. Io qui non controvo niente. Perché il 90% non cade così. Cade in bacia. Vai, vai, qui. Quindi, la cosa importante è andare a colpire con la mia spalla la bocca dello stomaco. Colpeare la bocca e l'estomaco con un toro con un placato. La mia testa, sotto la mia testa, cerca quella direzione. Che non deve essere per forza quella della protezione. Perché va da reazione di te. Se ho pieno una reazione, ovviamente... Non racchiona e continua all'ultimo. E si vede la racchina. Però non succede mai. Ovviamente, se qualcuno di provare a evitare, la reazione cerca forza. Normalmente va a racchina e fare la nuova. Quindi, l'obiettivo non è, come voi sbagliano, cercare quella direzione. Ma l'obiettivo è chiudere. Quindi, ok? Tutto, questa parte del mio corpo, qua, dietro il mio corpo. Qui, l'unica cosa che devo fare è controllarlo fino alla fine. In più. Lo fai tutto. In più. È molto importante che il controllo del cuore, vale? In più. In più. In più. Per farlo, bisogna fare tutto. Rompere la posizione con lui. La proiezione è solo con il cuore. Non posso rompere la sua posizione. In più. 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 Io rompere la posizione. Au su. Vai. outer. Ho fatto la posizione, lo controllo solo, riprogettato, adesso mi resta un po'. Vi ho fatto vedere diversi frattori. Per sempre votare ci mettiamo la stessa guardia, dalla stessa parte. E' un'altra che va per avanti. Non è importante. Stessa posizione, un altro posto di push, un altro gioco di pieno, un po' di 10, 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 un po' di 10. Un po' di 10, un po' di 10, un po' di 10, un po' di 10. E' un po' di 10, un po' di 15. Alla prossima. Uno lo torea e l'altro lo bloquea come si può essere posizione di estra. Va diretto. Va diretto. Lo bloquea. Lo pressiona. No. 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 No.